Brooke Shields, uno dei casi più controversi della storia di Hollywood, al pari probabilmente del caso di Drew Barrymore, gettata sotto i riflettori di una madre avida, Hollywood l'ha trasformata in un frutto proibito e sbagliato. Una ragazzina di 10 anni con le fattezze di un adulta, venduta come puro oggetto proibito, come la mela di Eva. Brooke ha raccontato la sua tragica storia in un documentario, Pretty Baby Brooke Shields. Vediamo uno dei casi più tragici, forse, di questo canale. Sigla! Salve a tutti amici e bentornati sull'ora del tè. Dunque, oggi un caso che mi ha sconvolto come pochi. Sì che trattiamo spesso storie di baby star sfruttate dal sistema eccetera, però quella di Brooke è stata veramente una storia che mi ha colpito, che mi ha scioccato, tanto che non ci ho quasi dormito la notte raga ve lo dico, cioè è stata proprio una cosa incredibile. Ho visto il documentario Pretty Babies Brooke Shields, mi raccomando se volete vederlo è su Disney Channel, ma scrivete Pretty Babies due punti Brooke Shields, perché sennò vi esce un altro film, di cui comunque parleremo in questo video se scrivete solo Pretty Babies. Prima di cominciare parliamo delle cose felici almeno, che salutiamo anche sia che oggi è con noi, parliamo dello sponsor del video di oggi, cioè Pumpling. Oggi indosso i calzini, lo so, ti ho spaventato, lo so, lo so. Pumpling fa sempre tantissime offerte, sta facendo tanti sconti, ci sono delle magliette a 10 euro, soprattutto io mi sono ordinata la maglietta per il Fantasarremo con la faccia di Amadeus. Con il codice sconto l'ora del tè, ci vedete un paio di calze o calzini in omaggio sul vostro ordine, e vi lascio tutto qui sotto in descrizione con lo sconto di questa settimana. Ora non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo. Allora, per noi più giovani chi è Brooke Shields? Perché lei è stata un'icona degli anni 80, quindi sicuramente l'avete vista da qualche parte, però in sostanza Brooke è stata una modella e un'attrice sia di cinema che di televisione, compresi spot pubblicitari che hanno raggiunto l'apice della sua carriera negli anni 80. Ma non fu solo questo, lei si convertì in una vera e propria icona degli anni 80 per le ragioni più sbagliate. Cioè, lei è stata il classico frutto di una madre avida, pazza, che voleva sfruttare il successo della figlia per campare, e allo stesso tempo Hollywood ha trovato questa ragazzina in tempi sostanzialmente meno sospetti rispetto poi agli anni 90, perché lei è stata proprio una, la sua figura è stata un precursore di quello che sarebbe stato poi, anzi di quella che poi sarebbe stata la sessualizzazione infantile, che abbiamo visto in tanti video e che Hollywood fa spesso, perché lei appunto era questa bambina che è stata gettata nel mondo dello spettacolo da quando aveva 11 mesi, completamente ignara, con una madre iperpermissiva, perché pur di far fare successo alla figlia avrebbe fatto di tutto, e Hollywood l'ha plasmata la resa, un oggetto sessuale sbagliato, perché comunque lei aveva 10-11 anni e hanno cominciato già a vestirla, a farle fare delle parti da adulta. Quindi in sostanza, come ho detto nella intro, lei è diventata un po' la mela di Eva, cioè quel frutto proibito che se la guarda un adolescente, magari finché ne aveva 11 manco, però se la guarda nei suoi coetanei, diciamo, è comunque un qualcosa che ci può stare, ma se la guarda un adulto chiaramente diventa un qualcosa di sbagliato. L'adulto lo sa, ma lo stesso sistema te la sta legittimando, te la sta proponendo così, e quindi c'è questa sorta di sbagliato, ma allo stesso tempo intrigante. Tutta la carriera di Brooke si è basata su questa dicotomia, cioè sul fatto di stabilizzare una ragazzina, quindi renderla un frutto proibito perché è sbagliato, ma allo stesso tempo tu me la propini, quindi io sono anche incuriosito e interessato. Quindi sostanzialmente i problemi principali sono stati la madre permissiva a Hollywood, che è un sistema malatissimo, la stampa che faceva finta di indignarsi per questa cosa, ma che poi allo stesso tempo ne parlava e nelle interviste accentuava proprio questo lato, quindi in realtà era una finta indignazione nascosta da quella che in realtà è stata poi legittimazione di questa figura. E in più Brooke, che essendo cresciuta nel mondo dello spettacolo, essendo anche una ragazza un po', come posso dire, genuina, un po' innocente, fino ad un certo punto, poi lo vedremo, non si era reso conto di quello che la stava circondando. Quindi questo è il quadro del video di oggi, a lei, champagne. Bene, allora cominciamo. Dunque, Brooke è nata il 31 maggio del 1965 a New York, dal padre Francis Alexander Shields e dalla madre Terry Shields. Che succede? Che i genitori sostanzialmente si separano subito, perché da quello che racconta Brooke stessa nel documentario, la madre era fidanzata con il padre, però rimase incinta, quindi il padre che era molto conservatore ha detto ci dobbiamo per forza sposare. Il problema è che il padre, essendo anche molto conservatore, avrebbe voluto una donna di casa, cosa che Terry non era, perché Terry era una ragazza a cui piaceva divertirsi, era una ragazza che beveva molto e che infatti poi vedremo che svilupperà anche l'alcolismo, tanto per non farci mancare niente in questa storia. Quindi praticamente quando Brooke aveva pochi mesi loro si separano. Questo legame quindi che Terry stringe con Brooke diventa indissolubile, cioè lei gliela mette come siamo io e te sole contro il mondo. Infatti Terry decide già quando Brooke aveva cinque mesi, la guarda, dice mia figlia è bellissima, mia figlia è un'opera d'arte, quindi deve essere ammirata da tutti. Quindi già qui capite che c'è già un'oggettificazione di fondo da parte della madre, perché appunto comincia da quando aveva diciamo dieci, undici mesi a portarla ai vari casting, eccetera. Quindi Brooke si converte immediatamente in una delle classiche bambine degli spot pubblicitari. Fino adesso niente di particolare, però c'è stata proprio tutta questa manipolazione. Da parte della madre che le diceva se tu diventi famosa possiamo permetterci una bella macchina, se tu diventi famosa possiamo permetterci un bel appartamento, la nostra vita cambierà, lo fai per noi. Quindi sostanzialmente la madre è stata brava a manipolarla per rendersi un tutt'uno con la figlia. Quindi Brooke è cresciuta sapendo che avrebbe dovuto mantenere sua madre e farla felice. Quindi non contava quello che voleva lei, contava quello che voleva la madre. E una volta diventata famosa contava quello che volevano tutti gli altri. Quindi Brooke è cresciuta come se fosse un oggetto. Cioè lei stessa, al di là di quello che è successo dopo in Hollywood, si sentiva un oggetto. Cioè un qualcosa per fare soldi, un qualcosa per rendere felice sua madre, un qualcosa per badare a sua madre. Quindi tutto questo processo di manipolazione ha fatto sì che poi Brooke non si rendesse conto di quello che le stava accadendo intorno. Pensate che a 11 anni Brooke era la più giovane modella della famosa agenzia Ford di New York. A 14 anni era considerata già una star tra le giovani modelle, apparendo nella copertina di oltre 300 riviste, tra cui Vogue e Cosmopolitan. Quindi Brooke ha raccontato anche nello show che fa Drew Barrymore, perché comunque chiaramente le due hanno una storia molto simile, l'abbiamo già visto la storia di Drew Barrymore, vi lascio il video qui sopra. Ha raccontato che per lei, essendo cresciuta, diciamo lei da ancora prima che avesse ricordi è entrata in questo mondo dello show business, per lei era una cosa normale. Non si rendeva conto anche che lavorare 13-14 ore al giorno era sbagliato per una ragazzina, lei pensava di avere un'infanzia normale come tutte le altre, perché lei da ancora prima che avesse iniziato a sviluppare dei ricordi era già in quel mondo. Poi sempre appunto in questo documentario racconta che comunque il padre non si è mai opposto, diciamo, non era d'accordo con quello che faceva la madre, sulla strumentalizzazione che faceva la madre a sua figlia, però non si è mai opposto. Cioè diceva, faceva finta di niente, girava gli occhi, girava lo sguardo dall'altra parte e infatti lei è convinta che suo padre non abbia neanche mai visto un suo film, cioè della serie, se non c'è, non esiste. E infatti racconta anche la differenza della casa di suo padre da quella di sua madre, perché suo padre poi quando è divorziato dalla madre dopo pochi mesi subito si è risposato, ha fatto una famiglia, quindi quando Brooke andava a casa del padre c'erano delle regole, c'era la cena da fare tutti insieme, c'era del tempo da passare di qualità insieme. C'erano le classiche regole di una famiglia normale, mentre quando tornava a casa da sua madre, sua madre che aveva una dipendenza dall'alcol, organizzava sempre delle feste in casa, la portava in giro oppure chiaramente la portava ai casting, o ad esempio attività che potevano essere ludiche come appunto una serata passata tra madre e figlia si trasformavano sempre in un qualcosa finalizzato alla carriera di Brooke, come ad esempio portarla al cinema a vedere determinati film per farla appassionare poi a quella che sarebbe dovuta essere la sua carriera artistica. Quindi tutto il tempo passato con la madre era finalizzato alla carriera di Brooke. Come vi dicevo prima, la stessa Brooke aveva capito che sua madre non la considerava come una figlia, cioè nel senso l'amore che provava Terry per Brooke. Non era il classico amore madre figlia, ma era un amore di un pittore con la sua opera d'arte. Quindi lei pensava come se Brooke fosse talmente bella, perché effettivamente era ed è ancora oggi stupenda, era talmente bella che il mondo doveva guardarla. Quindi l'oggettificazione in primis viene da sua madre e anche negli show, quando poi veniva chiesto loro, soprattutto alla madre veniva chiesto ma tu sei d'accordo nella sessualizzazione di tua figlia che sta facendo lo show business e lei dice non si tratta di questo, si tratta di un'opera d'arte. Quindi finché è fatto tutto nella parte artistica, in ambito artistico, tutto è lecito perché si tratta solo di arte, non c'è nient'altro dietro. Quindi insomma capite già che la situazione non era delle migliori. Quindi come vi dicevo prima, a un certo punto si passa da pubblicità innocenti, fino a quando Brooke aveva più o meno 9-10 anni pubblicità, dall'aspetto infantile come poteva essere la pubblicità per una gomma da masticare eccetera eccetera a un cambio radicale dell'immagine di Brooke, perché Hollywood aveva capito che poteva sfruttare questa cosa, poteva creare un vero e proprio prodotto commerciale dalle fattezze, chiaramente più che dalle fattezze diciamo un prodotto sbagliato che però allo stesso tempo poteva intrigare, quindi poteva vendere tutto. Cioè il fatto che il senso sia sempre stato utilizzato per vendere nelle pubblicità lo sappiamo da sempre, però erano ragazze grandi, non si trattava di una ragazzina di 12-13 anni, quindi è chiaro che si stava varcando un confine che era sbagliato. Quindi che cosa succede? Che dopo appunto questi scatti, queste pubblicità anche un po' provocanti di Brooke, lei viene scelta per un film molto controverso che vi dicevo prima chiamato Pretty Baby. Di che cosa parla Pretty Baby? Pretty Baby parla di un bordello a New Orleans in Louisiana in cui questa donna vive con sua figlia, sua figlia sarebbe appunto, è stata interpretata da Brooke, credo si chiami Victoria, questa figlia, che all'epoca aveva 12 anni. Quindi benché la bambina non facesse la prostituta di professione all'interno del bordello, essendo cresciuta in mezzo ad altre donne che comunque facevano quella professione, e lei aveva imparato ad approcciarsi agli uomini in un determinato modo. Già capite quant'è sbagliata questa cosa? E che cosa succede? Che a un certo punto sua madre la lascia lì nel bordello perché si sposa, se ne va e scappa, quindi lei rimane lì da sola e la sua verità viene messa in vendita. Ai ricconi, quindi in teoria questo film doveva essere una critica all'alta società americana, come se volesse appunto mandargli una frecciata. Dall'altro lato però è stato sfruttato anche, cioè più che il senso critico di questa cosa si vede proprio questo frutto proibito di questa ragazzina. Quindi il regista ha sfruttato entrambi i lati, sia di chi si indignava e la vedeva come una, diciamo, una critica al mondo del sistema americano dei ricchi, ma dall'altro lato era un qualcosa che comunque in maniera sbagliata erroneamente era intrigante. Quindi ha cercato di sfruttare un po' ambo i lati, diciamo, al punto che a un certo punto ci sono anche delle scene in cui c'è questo ragazzo che però, e questo ragazzo credo abbia più o meno sui 40 anni, ora io il film non l'ho visto ma ho visto delle scene, c'è questo ragazzo biondo che ha 40 anni che cerca di salvare questa ragazzina e i due si innamorano, la ragazzina ha 12 anni. Questo video YouTube non me lo monetizzerà mai ma non fa niente, cioè per rendervi conto che comunque il suo salvatore è comunque qualcosa di sbagliato, ecco. Quindi in questo film Brooke interpreta questa bambina, chiaramente questo film ha suscitato tantissime polemiche, soprattutto ai gruppi femministi perché hanno detto ma vi siete impazziti a fare una cosa del genere per quanto il cinema sia arte? Cazzo prendete... scusate... prendete una ragazzì, una ragazza di 17-18 anni, 17 che in America sono maggiorenni, che sembri una dodicenne come si fa normalmente nei film, non prendete una dodicenne veramente. E quindi i gruppi femministi si sono rivoltati, la stampa ha fatto finta di indignarsi perché appunto durante le interviste ha attaccato la madre, ha attaccato la madre dicendo che appunto era una sconsiderata nell'aver messo sua figlia in una situazione del genere, sua figlia piccola, dall'altro lato però non ha fatto la minima critica al regista perché è stato comunque il regista a scegliere Brooke, è stato comunque il regista a farle fare determinate scene, quindi nessuno si è indignato con il regista, anzi il film è stato esaltato, quindi vedete che c'è sempre la stampa che in realtà cercava comunque di accentuare per vendere notizie, quindi dicendo questa ragazzina che è stata messa sul grande schermo come un'adulta. E come vi dicevo prima la madre nei talk show si giustificava dicendo no quella è pura arte, infatti la madre passava delle ore sul set con Brooke e diceva purché si è fatto per... cioè controllando appunto quello che succedeva sul set dicendo se questa è arte va bene, se questa è arte va bene, cioè come se volesse darsi una giustificazione perché nel suo inconscio sapeva che quello che stava facendo con sua figlia era sbagliato. Dall'altro lato però passava appunto qualche ora sul set e poi dall'altro lato cercava il bar più vicino al set ed andava a ubriacarsi e qui esce un altro aspetto che ha contribuito alla carriera di Brooke nel senso del fatto che lei non si sia mai ribellata perché sua madre era un'alcolista, quindi lei quando tornava a casa vedeva sua madre, cioè riaccompagnava a casa sua madre, le faceva da genitore, sua madre magari sveniva in preda all'alcol, quindi lei sapeva come comportarsi, doveva metterle la testa di lato, la doveva coccolare, la doveva controllare durante la notte, quindi praticamente lei ha fatto da genitore a sua madre e il set era l'unica scappatoia a quella vita, cioè lei sapeva che le ore in cui era sul set non era lei che si doveva prendere cura di sua madre, ma c'erano delle persone che si prendevano cura di lei, cioè che stavano attente a tutti i suoi bisogni eccetera eccetera, quindi il lavoro per lei era diventata una scappatoia e anche quando si è cominciata a rendere conto che tutta la sua carriera era nata da un concetto sbagliatissimo, comunque continuava proprio per il fatto che non voleva caricarsi tutto il giorno di sua madre del fatto che appunto lei fosse un'alcolista, infatti appunto si è creato questo rapporto ossessivo tra madre e figlia molto disfunzionale. Quando arriva la fama internazionale per Brooke Shields? Arriva con il film Laguna Blu del 1980 e lei aveva 14 anni quando ha fatto questo film, insieme all'attore Christopher Atkins. Questo film ha suscitato ovviamente diverse polemiche perché il film tratta di due quattordicenni che rimangono, che vengono abbandonati su un'isola deserta, quindi sviluppano prima un'amicizia, poi un amore sia in senso sentimentale sia in senso fisico e quindi questo film tratta proprio l'evoluzione del rapporto tra i due e questo film è stato proprio l'apice che ha scolpito totalmente la carriera di Brooke Shields perché sostanzialmente questo film è un soft porn, potete dirmi quello che vi pare, ma è un film soft porn. Per adolescenti probabilmente si spera, ma sappiamo che il mondo è malato e purtroppo non è così e quindi da qui Brooke diventa ufficialmente la ragazzina dalle fattezze di un adulto. Cioè proprio non può, noi sappiamo che Hollywood dà degli schemi a ogni attore poi se riescono a uscirne ben venga, come ad esempio se sei il belloccio o la belloccia fai le parti da belloccio o da belloccia, Brooke era il frutto proibito, era un quel qualcosa di sbagliato che vi dicevo prima, questa dicotomia tra è un qualcosa sì di sbagliato ma allo stesso tempo intrigante. Quindi che cosa succede? Dopo questo film viene presa per una campagna della Calvin Klein in cui anche lì aveva 15 anni, viene sessualizzata tantissimo, si vede lei nelle pubblicità che si mette il jeans, fa determinate pose e lo slogan di quella campagna era lei che diceva vuoi sapere cosa c'è tra Mamie e Calvins? Niente. Chiaramente questa campagna ha fatto sempre indignare un po' tutti perché appunto era una minorenne che faceva palesi allusioni sessuali e lei racconta che all'epoca era così ingenua che non si era neanche resa conto perché Brooke si era convinta che per arrivare al successo con cose importanti quindi come film di spessore eccetera dovesse passare per lì perché come vi dicevo prima lei è cresciuta in un sistema che l'aveva oggettificata sua madre che le aveva insegnato ad essere un oggetto perché diceva tu sei un'opera d'arte devi essere guardata quindi lei si era autoconvinta che questo fosse il percorso normale per poi arrivare invece magari a contenuti un po' più di spessore ecco infatti lei si era aggassata molto per la pubblicità di Calvin Klein perché durante queste pubblicità oltre a fare la modella doveva recitare e in più c'erano dei riferimenti letterari quindi lei ha pensato detto per fare una cosa del genere per impararmi anche dei riferimenti letterari molto difficili devo essere intelligente quindi dimostro al mondo che io non sono solo una bellezza ma ho anche un cervello cosa che ovviamente non è successa perché le allusioni sessuali sono state quelle sono state diciamo l'unico fulcro di questa campagna al punto che sì le persone si sono indignate tanto ma allo stesso tempo Calvin Klein ha nelle poche settimane successive alla sua campagna ha triplicato le vendite cioè le vendite sono cresciute del 300 per cento quindi capite in che senso vi dico che lei è il frutto proibito perché qualunque cosa fa suscita indignazione ma allo stesso tempo poi suscita curiosità e lei quindi si trasforma nella modella nell'icona degli anni 80 al punto che fanno di lei anche ad esempio delle bambole che poi alla fine lei quello si considerava lei si considerava una bambola infatti che cosa succede che appunto a lei facevano fare queste parti sempre come ad esempio poi ha fatto il film The Endless Love dove era sempre questa ragazza che scopriva la sua sessualità bla 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 perché erano quelli i suoi ruoli dall'altro lato lei è stata sempre tenuta in una bolla di vetro da sua madre che come ha raccontato sua madre e suo padre entrambi molto cattolici le hanno sempre detto che doveva appunto fare insomma avere rapporti dopo il matrimonio quindi lei si è autoconvinta perciò lei era completamente ignara in realtà di quello che comporta un rapporto all'interno ecco anche di un film e infatti lei racconta che durante queste scene si estraniava perché sentiva che c'era qualcosa di sbagliato però chiaramente doveva farlo quindi lei racconta che si estraniava vedeva si era creata questo alter ego un po come abbiamo visto in altre star si era creata questo alter ego che andava in automatico cioè lei si era proprio resa conto di essere una bambola certo io mi consideravo una bambola mi dicevano quello che dovevo fare mi mettevo dove mi dovevo mettere e finiva là la situazione per quello vi dico che è stato agghiacciante perché poi durante le interviste sia di quando era piccola sia di quando era un po più grande se nel documentario è pieno vedete proprio questo suo sguardo vuoto lei spesso guarda verso il basso mi ha fatto proprio impressione perché lei aveva questo sguardo rassegnato vuoto come se fosse una spettatrice della sua vita quindi mi ha fatto particolarmente brutto ad un certo punto però ad un certo punto si sveglia diciamo da questa cosa capisce più che altro lo accetta perché lei lo ha sempre capito accetta che tutto ciò su cui si era abbassata la sua carriera era sbagliato era un concetto sbagliato e lo capisce pensate quando succede uno scandalo con un fotografo gary grush questo gary grush era un amico di famiglia quando bruc aveva nove anni sua madre lo aveva contrattato lo aveva assunto per fare delle foto alla figlia adesso vi dico delle foto per la rivista rizzoli da un lato e per la rivista playboy dall'altro quindi che cosa succede che questo gary grush fa delle foto a bruc di nove anni che sono pensate censurate su google che io quando le ho viste poi ho dato l'ok perché google mi ha chiesto sei sicuro che le vuoi guardare io ho detto sì ho pensato che mi arrivasse la polizia postale a casa quindi io adesso vi faccio vedere qui sovraimpressione tutto censurato perché sennò youtube mi cancella proprio il canale ma per carità poi queste foto è meglio che nessuno le guardi per darvi appunto quest'idea ma chiaramente sono delle foto non artistiche cioè sono delle foto cioè non posso dirlo la parola composta da due p p p quindi che io anche per quello non ho dormito perché avrei voluto evitare nella vita di guardare delle foto del genere e che cosa succede che gary grush ha deciso di vendere queste foto una volta che lei è diventata famosa perché quando furono pubblicate che lei aveva nove anni non fecero tanto scalpore perché comunque brooke non era famosissima quando ne aveva 15 16 anzi 15 all'epoca chiaramente lei era famosa quindi questo gary ha detto facciamo un po di soldini e ha messo in vendita per tutte le riviste che volevano avere queste foto appunto le foto che aveva fatto di brooke chiaramente brooke non ci sta perché dice io avevo nove anni sono palesemente delle foto sbagliate col cavolo e quindi ha denunciato questo gary gross il problema però è stato perché brooke ha perso il processo che gary grossa aveva tutti i diritti su quelle foto perché la madre pur di far fare un servizio fotografico alla figlia ha ceduto tutti i diritti delle immagini di brooke a questo fotografo e questo gary grossa poteva fare delle foto quello che voleva quindi anche venderle a tutte le riviste questo caso ovviamente ha fatto scalpore le foto sono state pubblicate su tutti i giornali quindi immaginatevi tutto questo perché terry voleva semplicemente far fare un servizio fotografico alla figlia e terry all'epoca era responsabile era la tutrice legale di brooke che ha ceduto i diritti di sua figlia di nove anni in un contesto molto sbagliato a un fotografo quindi capite li brooke ha capito li brooke ha detto cavolo se queste foto che sono oscene sbagliate sono su tutti i giornali perché la gente le vuole vedere c'è qualcosa che non va nella mia immagine li lo capisce deve continuare a lavorare perché non riesce ad uscire da questo schema e deve mantenere sua madre questo senso di servilismo nei confronti della madre finché non decide a 17 anni 18 anni scusate di iscriversi all'università manda la sua candidatura a pristo a princeton priston l'accetta e lei inizia il periodo universitario quindi si prende una pausa dal mondo del cinema all'inizio il suo inserimento non è stato semplice perché lei sostanzialmente sempre è sempre stata una bambina che ha vissuto nel mondo degli adulti non ha mai sviluppato dei veri e propri rapporti sociali aveva questo rapporto ossessivo con sua madre inoltre lei era famosa quindi comunque anche dall'altro lato i ragazzi erano gentili racconta di priston però erano anche un po freddi perché chiaramente non volevano pristo neanche un'università molto prestigiosa quindi consideravano anche la carriera di brooke molto la prendevano un po sotto gamba capito in questo senso quindi lei ha vissuto i primi anni in solitudine chiamava sua madre quattro o cinque volte al giorno a un certo punto questa solitudine è stata così forte che lei aveva pensato di lasciare l'università ma sua madre per la prima volta della vita ha fatto la madre incredibile strano ma vero ha fatto la madre gli ha detto se lasci questa opportunità prima o poi te ne pentirai perché lei è andata a priston per studiare arte in modo da cercare di uscire dal canone di solo bella ragazza e di dimostrare che lei avesse anche un cervello e un talento per delle parti di spessore serie quindi sua madre le ha detto non la lasciare vedrai che ce la fai quindi con l'incoraggiamento di sua madre lei poi si iscrive anche a questo corso di danza all'interno di princeton e lì riesce un po sbloccarsi a fare delle amicizie si fa la sua carriera universitaria si va anche un ragazzo si fidanza appunto con questo ragazzo e questo ragazzo l'aiuta ad uscire dalla sfera di dipendenza di sua madre dalla sfera di proprio di manipolazione di sua madre lei si riesce a staccare dalla madre capisce che lei può pensare da sola che non ha bisogno che sua madre e il sistema le dicano quello che deve fare quindi lei inizia questo processo di autodeterminazione si stacca dalla madre allo stesso tempo la stampa e il sistema di hollywood non potevano accettare questa cosa perché loro dicono dicevano noi che abbiamo resa famosa così tu rimani così non ci puoi dimostrare che sei intelligente infatti quando lei ogni tanto andava alle interviste le chiedevano della sua carriera universitaria la prendevano sempre in giro dicevano ma veramente qualcuno a priston ti prende sul serio oppure un comico che ha fatto una battuta dicendo brook shield è all'università oggi ci hanno detto che ha preso la sua prima a indovinate in cosa l'ha presa ha preso a in anatomia e il professore gli avrà dato a per la sua di anatomia cioè vedete come cercavano sempre di scoraggiarla sempre di buttarla giù perché non potevano accettare che lei oltre a quello che era con cui era stata venduta avesse anche un cervello però lei non si è lasciata scoraggiare si è laureata e poi ha provato a tornare nel sistema di hollywood cercando delle parti più di spessore ovviamente hollywood ha fatto resistenza quindi lei ha ricominciato a fare la modella ricaduta un po negli stessi schemi però però ha cominciato a rifiutare determinati lavori ha cominciato a staccarsi ancora di più cioè ormai era completamente staccata da sua madre e infatti ad un certo punto incontra il tennista andrea agassi e si sposano divorziano poco dopo però lei già in questo modo riesce un po a essere più combattiva diciamo a capire aveva capito che lei poteva gestirsi da sola la sua vita che cosa succede però ad un certo punto perché ovviamente non bastava quello che era che le era già successo la contatta un produttore di hollywood lei non fa il nome la contatta un produttore di hollywood lei dice guarda io ho un film per te le spiega la trama era una trama un personaggio di spessore quindi lei è emozionatissima vola a los angeles e va a cena con questo produttore durante tutto il corso della serata non si non parlarono del film quindi lei si sentì un po a disagio perché lui sostanzialmente non le aveva spiegato nulla di questo progetto finita la serata lei dice a lui mi chiamo un taxi e questo produttore fa guarda il mio hotel è qui accanto vieni lo chiamiamo dalla mia stanza così ti arriva anche il concierge sotto non devi aspettare fuori da un ristorante insomma gliel'ha venduta un po bene poi lei come dicevamo è sempre stata molto ingenua su questo punto di vista è andata in camera il produttore ha detto vado in bagno e poi chiamiamo il taxi è andato in bagno è uscito completamente nudo lei ha cercato di opporre resistenza ma a un certo punto per la paura si è bloccata e quindi il produttore ha fatto quello che doveva fare lei poi è uscita ha chiamato un taxi e se ne andava quindi insomma non c'è mai fine al peggio per sta povera donna a un certo punto della sua vita però dopo appunto il divorzio incontra poi nel 99 all'età di 34 anni l'amore della sua vita ancora ad oggi chris hansi è uno scrittore televisivo si sono sposati nel 2001 hanno avuto due figli lei poi piano piano anche attraverso un percorso psicologico ha cercato di riprendersi è uscita un po dal mondo dello spettacolo ha fatto qualche comparsa perché poi a un certo punto ha detto voglio provare a buttarmi sul comico vediamo se almeno lì evitano di rendermi un oggetto infatti la vediamo non l'avevo riconosciuta cioè non l'avevo associato in friends fa una comparsa c'è una puntata in cui c'è questa signora un po matta che si innamora di joy ma non di joy il personaggio ma si innamora del personaggio del dottor drake remorè perché lui appunto faceva questa joy faceva questa sitcom questa no scusate questa telenovela chiamata i giorni della nostra vita in cui interpretava questo dottor drake remorè e c'è lei brook shield che interpreta la parte di questa fan che è innamorata del dottor drake remorè si crea questo spettacolino diciamo questa questa scena molto carina in cui appunto lei chiama joy drake perché convinta che fosse il dottore drake remorè me la ricordavo è stata brava e quindi lei ha cercato poi di buttarsi un po sulle sitcom per cercare di uscire da questi schemi però adesso da come dice il documentario è felice tranquilla si è lasciata un po tutto alle spalle e questa è la tragica storia signori proprio di brook shield spero che questo video non vi abbia inquietato più di tanto io vi consiglio di vedere il documentario perché rende benissimo rende benissimo e vi sentirete proprio schiacciati e anche un po più che angosciati direi un po sporchi nel vederlo ve lo dico quindi io personalmente ve lo consiglio lo trovate su disney channel noi ci vediamo martedì prossimo per la seconda parte di eminem perciò vi auguro un buon weekend ciao